Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Dune parte 2 ed il mio rapporto con questa, ormai possiamo chiamarla saga, è un po' strano. Infatti il primo Dune uscito nel 2021 mi era piaciuto in sala, ma poi con diversi rewatch, in realtà solamente due di cui uno fatto proprio l'altro giorno, il giorno prima di vedere Dune parte 2, c'è stata una rivalutazione in negativo. Secondo me continua ad essere, nonostante appunto l'altro rewatch da pochissimo tempo, un film abbastanza noiosetto, soprattutto per la sua durata molto elevata e per ciò che viene raccontato, ovvero pochissimo. Nonostante questo avevo hype e interesse per questo secondo capitolo, per questa seconda parte. In realtà non so il vero motivo, probabilmente sarà stata la campagna marketing efficace, i trailer possibilmente mi avranno accattivato un po' di più in confronto a quelli del primo film, fatto sta che appunto ero veramente curioso di vedere Dune parte 2. Avevo effettivamente delle aspettative un po' diverse, questo posso dirlo, però il film mi è piaciuto molto, molto più, soprattutto del primo capitolo, ma non credo che il motivo riguardi solamente il fatto che qui viene raccontata più storia, va più avanti effettivamente la storia e si conclude, possiamo dire così. Nonostante tutti i problemi che riscontro ogni volta nella visione di Dune parte 1 a casa, sicuramente è innegabile dire che è un film magistrale, comunque visivamente pazzesco, la colonna sonora di Hans Zimmer è veramente fuori di testa, le ambientazioni tutto, le location, diciamo che il world building è la cosa principale del Dune uscito nel 2021. E la cosa bella di questo Dune parte 2 è che qui ritornano tutte quelle cose che mi erano piaciute, quelle poche cose che mi erano effettivamente piaciute tanto dal primo Dune, a volte anche migliorate, ma vengono aggiunte delle altre, come per esempio semplicemente la sceneggiatura. Ok, posso fare questa leggera critica? Qui sembra effettivamente che la storia vada avanti. Sarà forse per la presenza di più di un colpo di scena interessante? Non lo so, in realtà non so identificare il motivo vero e proprio di questa diversificazione tra le due parti. Non vorrei soffermarmi così tanto sul lato tecnico, vorrei semplicemente esortare Denis Villeneuve a dirigermi la vita e a Hans Zimmer di comporla, perché veramente fa fuori di testa questo Dune parte 2. Alcune scene sia per dei movimenti di macchina che per la fotografia stessa, per lo più molto calda per tutto il film, ma c'è soprattutto una scena, una sequenza in realtà, che mi è piaciuta molto e implica il bianco e nero. E l'ho capito solo a un certo punto, di star vedendo qualcosa in bianco e nero, perché probabilmente potrebbe anche essere in qualche modo contestualizzata molto bene come scelta registica, visti i personaggi in ballo in quel momento. E vi giuro ragazzi, ho contato almeno due o tre sequenze che mi hanno fatto entrare ad Arrakis, io ero lì. E per 2 ore e 40 è una sfida molto dura, io sinceramente queste 2 ore e 40, quindi quasi 3 ore, non le ho sentite. Anche se, e questo è un problemino che volevo dire appunto, il ritmo secondo me è un po' mal gestito. Anche questa volta c'è della lentezza all'interno del film, soprattutto nella prima parte, poi dall'intervallo in poi diciamo che si inizia un po' più a velocizzare, ed è proprio questo in realtà parte del problema, perché la seconda parte del film è molto streaming sita, diciamo succedono delle cose in modo molto veloce, ci sono tante rivelazioni in poco tempo, ma non è una cosa che in realtà mi ha dato poi così tanto fastidio, perché ero lì, ripeto, ero lì, quindi seguivo tutta la storia con gli occhi spalancati, con la sabbia che mi entrava nei sandali. Non avevo sandali al cinema e non so perché io abbia detto sandali in questo momento, però ho apprezzato molto alcune evoluzioni dei personaggi presenti in questo film e presenti anche nel primo. Per esempio Jessica, interpretata da Rebecca Ferguson qui, ha avuto un'evoluzione molto veloce nella prima parte del film, succede una cosa che per chi appunto non ha letto il libro come me non poteva immaginare, stessa cosa anche per Paul Atreides in realtà. Diciamo che in pochissimo tempo loro da così arrivano a così, poi c'è un po' di time skip durante questa seconda parte e viene diciamo contestualizzata questa presa di coscienza da parte dei personaggi, ma veramente nel primo film vediamo due persone totalmente diverse da quelle che ci sono in questo secondo. Almeno per quanto riguarda Paul, Timothee Chalamet, nella seconda parte la sua evoluzione maggiore avviene lì, con diversi cambi di nome anche, e la sua presa di coscienza maggiore avviene appunto nell'ultima sequenza, che per me è pazzesca, mi ha fatto venire un hype assurdo per il possibile terzo capitolo, in realtà più che possibile, visto che in teoria è già finita la sceneggiatura, è già stata conclusa la sceneggiatura di un messia. Comunque posso dire, sempre parlando di personaggi, che con questo secondo capitolo finalmente mi sono affezionato a questi cristi che non mi cacavo di striscio con il primo film. Adesso sono effettivamente finalmente curioso di scoprire i loro destini, anche se probabilmente Paul il suo lo sa già. Anche Chan, interpretata da Zendaya, qui mi è piaciuta tantissimo, forse il personaggio che più ho apprezzato all'interno del film, tra tutti i personaggi, non solo tra quelli presenti anche nel primo. Lei, diciamo più che evoluzione, ha una vera e propria presentazione, visto che nel primo praticamente si girava solamente, non faceva nient'altro Zendaya, e sarà anche forse per la bravura dell'attrice, perché l'ho visto doppiato il film, però comunque l'espressività è sempre quella. In qualche modo ho empatizzato tantissimo con lei, soprattutto nella scena finale. Zendaya è stata veramente pazzesca, non vedo l'ora di vederlo in originale, sperando di non rivalutarlo vedendolo a casa, questo è sicuro, perché questa è la mia più grande paura al momento. Vengono presentati altri nuovi personaggi all'interno del film, per lo più villain. Abbiamo Faye Droughta, il nipote del barone Arconen, interpretato da Austin Butler, che per l'occasione è diventato Mastrolindo, e posso dire che lui fa parte in realtà di una delle delusioni maggiori all'interno del film, perché forse per le mie aspettative troppo alte ne avevo sentito parlare come uno dei villain maggiori, uno dei villain migliori, diciamo, fin dai tempi del Joker di Heath Ledger, del Cavalero Oscuro, e sinceramente no, non è per niente così. Cioè, è un villain semplicissimo, nemmeno poi così tanto caratterizzato in realtà. È cattivo perché è cattivo, che di questi tempi in realtà mancano villain del genere, però non è sicuramente il Joker di Heath Ledger, questo voglio dire. Sì, Austin Butler ha fatto un buon lavoro, comunque a volte ha fatto anche spaventare, cioè fa effettivamente cagare in mano come personaggio per la cattiveria, ma anche per l'espressività effettiva in alcune scene, compresa quella di presentazione, con quella fotografia interessante di cui ho già anticipato qualcosa. E poi, per quanto riguarda altri personaggi, abbiamo Irulan, che è la principessa, l'ha interpretata da Florence Pugh. Ero curioso di conoscere questo personaggio perché sarà molto legato a doppio filo a Paul, per diversi motivi. E abbiamo pure Shaddam IV, che è il padre di Florence Pugh, appunto l'imperatore. Entrambi i personaggi in realtà li avrei voluti forse un po' più a schermo, soprattutto perché ne avevo sentito parlare molto, molto, prima di andare a vedere il film, e quindi pensavo sinceramente avessero una parte un po' maggiore. Comunque ragazzi, mentre parlo mi vengono in mente le scene d'azione di questo film. Sono intanto molto di più in confronto a quelle che erano presenti nel primo film, e poi mentalmente ho messo a confronto le due coreografie presentate sia al fine del primo film, quella con Trappol e il Fremen, non ricordo adesso come si chiama, il Fremen Nero che alla fine ci lascia le penne, e l'ultimo scontro che abbiamo in questo film. Ragazzi, le coreografie sono totalmente diverse. Sembra che persino il primo film non sia stato diretto da quella scena, non sia stata diretta dallo stesso regista, o coreografata dallo stesso coreografo. Comunque, sembra una cosa totalmente diversa. Le scene d'azione in questo secondo film comunque non riguardano solo combattimenti corpo a corpo, abbiamo diversi altri tipi di combattimento, oppure altri tentativi, prove, per Paul Atreides, che ragazzi, quella prova, per chi ha visto il film capirà, quella prova, mamma mia, che scena, che sequenza in realtà. Un'ansia che potete capire solo avendo visto il film, anche se ovviamente sai come andrà a finire la situazione. Visto che ho citato questa scena, mi è venuta in mente una situazione, una dinamica tra i Fremen, comunque. Ovvero quella di credere così tanto, avere fede nel Quisatz Haderach, che dovrebbe essere appunto Paul, secondo le sacre scritture. E a proposito di questo, mi è piaciuto nella prima parte soprattutto una sorta di critica alla religione, presentata da due estremi tra i Fremen, ovvero i credenti e i non credenti, comandati, diciamo, concettualmente da Zendaya, da Chani, mentre l'altra parte, quella dei credenti, da Aver Bardam, Stilgar. Non che sia chissà che grande critica alla fede in tutto e per tutto, a un credo o un qualcosa, però ho notato questa sfumatura, magari una cosa solo mia, non lo so. Ripeto che queste due ore e quaranta, quindi quasi tre ore, non si sono sentite. Effettivamente un po' di lentezza c'è, quella si percepisce, ma non mi sono annoiato. Invece, con il primo film, la noia l'ho sentita. Ad un certo punto la noia credo di averla sentita e percepita anche in sala con il primo film, forse perché viene raccontato molto meno, ripeto. Nel 2021 sicuramente ero una persona differente, da ora. Adesso sono abbastanza sicuro di poter dire che non mi annoio più con un film che non presenta una scena d'azione una dopo l'altra. Nel 2021 possibilmente ero di questo tipo, magari avrei voluto più azione, visto che i trailer effettivamente erano un po' ingannevoli, quelli del primo film, ma secondo me, a parte il ritmo mal gestito in alcune parti, questo secondo è meglio in tutto. Ho veramente tanta tanta curiosità per il terzo capitolo, per Dune Messia. Volevo chiudere anche la recensione senza spoiler, dicendo che dopo aver visto Dune parte 2 in sala, tornato a casa e ho visto il Dune di Lynch del 1984, così per vedere un po' le differenze. E ragazzi, se mi seguite su Letterboxd, sapete cosa ne penso. C'è il link del mio profilo nella descrizione. Ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e il link di Pampling, codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta, e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!